Sesta corsa, campremio Gaetano Turilli, gruppo 1 per gli anziani, 2100 metri, 12 al vieto per il tiro di Pace del Rio. Prima fila per Nepentalux, Alessandro Cocciadoro, Radio Freccia FIFA, Federico Esposito, Probo Piedo, Ardomoni, Moses Robb e Pietro Cubellini, all'Unokai Gaetano Di Nardo, Orsi Antonio Di Nardo, Napoleon Barri, Enrico Bellai, seconda fila, Rossella Rossa, Andrea Cuzzinati, Lingo Star Trebbe, Roberto Vecchione, Tiger Woods AS, Robin Bacchieri, Boy Cup, Andrea Farolfi, Radice del Nord, Lucio Becchetti. Emergono in lotta Moses Robb e Orsia, sopra tutti, con Moses Robb all'interno, incalzato da Orsia, poi c'è Nepentalux alla corda, ancora Olonokai che è stata infilata da Rossella Ross, rimane a gravitare a largo Napoleon Bar, con Moses Robb che sembra intenzionato a giocarsela al comando, nei confronti di Orsia che è costretta a largo da Nepentalux, poi Rossella Ross, terza in corda, davanti a Olonokai che si è accodata a precedere a Napoleon Barra, accenna a prendere a via del largo probo P, poi ancora Ribot e K, quindi Radio Freccia FI, Ringo Star Trebbe in coda, Tiger Woods AS mentre ha sbagliato Radice del Nord. I 600 in 43 e mezzo per Moses Robb che cerca ora di ridurre l'andatura dopo che Orsia ha desistito dall'attacco, ma viene sostituita nell'azione da probo P che la aggira e punta in avanti, Moses Robb che completa gli 800 in 58 e 1, avendo Arsalki probo P che ora temporeggia dopo essere giunto sull'avversario in corda Nepentalux davanti a Rossella Ross, Orsia all'esterno, poi Olonokai in coppia con Napoleon Barra che ha spostato in anticipo su Ribot e K a Radio Freccia FI, quindi Ringo Star Trebbe, Tiger Woods AS con il ritmo che ora è parzialmente diminuito dopo il primo giro, dopo soprattutto i primi mille metri molto veloci, ora una frazione leggermente più moderata ma si va ancora molto forte con probo P che ora va all'attacco di Moses Robb, poi Nepentalux sulla quale ha spostato Rossella Ross dopo il calo di Orsia, quindi Olonokai, poi ancora Ribot e K con probo P che intensifica la pressione su Moses Robb quando siamo ormai in vista dell'ultima curva e c'è Nepentalux che ha in fuori Rossella Ross, accenna a spostare dalla corda anche Olonokai, poi lungo la corda Napoleon Barra, gli altri non sembrano per ora progredire con Moses Robb che si difende ancora probo P, ma si affaccia in terza ruota Rossella Ross alla ricerca di un varco che per ora non c'è Nepentalux perché il probo P tiene botta ma ora Nepentalux ha la scia libera da Moses Robb, a largo ci prova, ora Rossella Ross che ha superato probo P, a largo di tutti, rinviene Ribot e K, nel finale Nepentalux all'attacco di Moses Robb, sta passando, Nepentalux su Moses Robb, Nepentalux su Moses Robb, Ribot e K, 1, 4, 12, gran percorso di testa di Moses Robb, ma quando ha visto la luce Nepentalux è scattata dalla sua scia e in zona traguardo lo ha battuto sul mio cronometro 2,25 secco per gli ultimi 2.000 metri, vuol dire media intorno all'1, 12,1, 1, 12,2 perché ci sono da calcolare i primi 100 metri di gara velocissimi nei quali Moses Robb si era opporso a Orsia che è insistito all'attacco, poi Moses Robb ha dovuto anche fronteggiare l'attacco di probo P, è stato davvero straordinario l'allievo di Salvatore Carro, ma si è dovuto inchinare allo spunto di Orsia e di Alessandro Cocciadoro, grazie a tutti